Un contrabbandiere arrestato ed uno denunciato, sequestrato un deposito clandestino di sigarette e 117 chili di bionde. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di due distinti interventi tra i quartieri San Carlo Arena e Pendino del Capolugo, ha tratto in arresto un 59enne contrabbandiere di Foggia, denunciandone un secondo, un 55enne di Napoli sequestrando un deposito clandestino di sigarette e 117 chili di bionde. La prima operazione è stata condotta dai finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano di Napoli, che hanno notato in piazza Carlo III un'auto con un telo nero che copriva i sedili posteriori, che procedeva verso via Don Giovanni Bosco. Dopo un breve pedinamento, i finanzieri hanno fermato il mezzo scoprendo al suo interno 100 chili di bionde. Marker Ottmans, Winston Blue, Winston Rosse, Chesterfield Rosse, Marlboro Gold, Marlboro Rosse, Richmond Blue, destinate ad alimentare le piazze partenopee. Le sigarette di contrabbando sono state sottoposte a sequestro, mentre il responsabile è stato tratto in arresto e giudicato con rito direttissimo. La seconda operazione è stata condotta dai baschi verdi del gruppo pronto impiego di Napoli, che, mentre transitavano in via Vico Croce al Lavinaio, hanno sorpreso un soggetto, che, mentre usciva dal portone di casa, aveva tra le proprie mani diversi pacchetti di tabacchi lavorati esteri. I finanzieri, dopo aver effettuato una perquisizione dell'immobile, hanno sequestrato 17 chili di sigarette di contrabbando e un locale adibito a deposito, tra l'altro di difficile individuazione, poiché ricavato in un sottoscala chiuso a chiave mediante una porta di ferro. Le attività scaturiscono dall'intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio, volti a contrastare il fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, particolarmente diffuso nell'area napoletana.